signore perché piange la mia vita è tanto malata alla peronospora se non la si salva con i senapismi chissà come finirà ma si modernizzi la curi con aspor montecatini è facile un po' d'aspor un po' d'acqua e zac niente peronospora e come fa bene alla vita e quanta uva aspor il fungicida senza rame conosciuto da tutti gli agricoltori usatelo anche voi aspor è un prodotto montecatini